Crocchette di ricotta e spinaci, semplici, semplici e gustose. Saltate 300 g di spinaci surgelati e lasciati scongelare in frigo. Aggiustate il sale e cuocete per 5 minuti fino a che li si saranno asciugati quasi completamente. Una volta freddi, srissateli, poneteli su un tagliere e taglizzateli finemente. In una ciotola lavorate la ricotta con l'uovo e un pizzico di sale. Unite il pescello e la noce moscata, gli spinaci tagliuzzati e freddi e mescolate. Aggiungete il parmigiano, il pangrattato, mescolate e fate riposare in frigo per 15 minuti. Oleate una pirofila e una teglia da forno e formate le vostre crocchette di ricotta e spinaci. Cospargetele con un filo d'olio ed infornate. Preparatele perché sono buonissime!